Si chiama Crudelia de Mon, l'operazione portata a termine nei giorni scorsi dai carabinieri forestali del Nucleocites di Ancona, che hanno concluso le indagini preliminari, durate oltre due anni e dirette dalla Procura della Repubblica, che hanno visto coinvolti 29 allevatori di cani residenti in nove regioni italiane e 11 medici veterinari. Dalle indagini svolte è emerso che 16 allevatori di razze canine e 4 medici veterinari residenti nelle province di Ancona, Macerata e Cosenza sono risultati coinvolti in 52 amputazioni illegali delle orecchie e della coda di cani corso, pitbull e dogo argentino, eseguiti tra il 2017 e il 2019. Alcuni interventi di amputazione sono stati giustificati con certificati falsi, manoscritti dagli stessi veterinari ed attribuiti a veterinari risultati inesistenti oppure residenti all'estero ed inconsapevoli degli interventi eseguiti. Inoltre sono stati sequestrate a seguito delle perquisizioni effettuate presso 4 allevatori di cani corso e pitbull residenti nelle province di Ancona e Bari, timbri veterinari falsi e certificati veterinari in bianco pronti per essere compilati e ceduti agli acquirenti dei cani. Oltre 40 amputazioni illegali sono state attribuite ad una veterinaria con ambulatorio in provincia di Macerata che risultava operare in un locale situato in un allevamento di cani corso in provincia di Ancona. Denunciati anche 17 allevatori di razze canine e 7 veterinari per aver prodotto 77 certificati falsi, tra cui 20 certificati veterinari di amputazioni dei cani e 57 libretti sanitari, passaporti e certificati per il transito di animali da compagnia. Documenti tutti falsificati al fine di poter esportare ed importare illegalmente cuccioli al di sotto dell'età consentita dalle leggi dei paesi di destinazione. Abbiamo i timbri utilizzati per capi falsificati. Sono state accertate 34 esportazioni all'estero, principalmente negli Stati Uniti, di cuccioli di razza corso e mastino napoletano al di sotto dell'età consentita dalla legge, con cani non vaccinati contro la rabbia, documenti falsi che ne attestavano la vaccinazione avvenuta e una data di nascita diversa da quella effettiva. Le indagini hanno inoltre permesso di riscontrare le importazioni illegali di 5 cani di razza American Pit Bull Terrier, Bulldog e Golden Retriever, importati in 5 diverse occasioni in Italia dagli Stati Uniti sotto i 3 mesi di età e senza vaccino antirabbico. Inoltre ben 59 documenti falsi sono stati attribuiti a 6 veterinari con sede in Ancona, Napoli, Viterbo e Matera. Due veterinari con ambulatorio in provincia di Macerata sono stati denunciati in concorso con altri due allevatori in quanto hanno fornito vaccini e microcippa agli allevatori che hanno poi eseguito illecitamente le inoculazioni, pratiche in realtà riservate esclusivamente ai medici veterinari. I reati contestati ai 40 soggetti, oltre a pesanti multe, sono puniti con reclusione fino a 18 mesi per il traffico di animali da compagnia e maltrattamento e con reclusione fino a 3 anni prevista per l'esercizio abusivo di professione.